eccoci buonasera buonasera a tutti e a tutte verifichiamo se partita la diretta è una diretta un po improvvisata eccoci sì sembra di sì sembra che sia tutto ok ci siamo ok 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 allora in questa diretta stasera vi presenterò questo albo illustrato che si intitola il piccolo elfo di natale un albo scritto in lingua inglese è l'albo che ha ispirato il mio laboratorio di babbo natale il copione che contiene parti recitate canzoncine coreografie ho scritto questo copione proprio ispirandomi a questo racconto ma in realtà è un racconto davvero molto semplice tenero davvero un tenero albo che anche una un bel messaggio no al di là della festa del natale per questo l'ho ritenuto interessante sia poi mi ha ispirato per costruirci ecco una sorta di spettacolo natalizio perché ci sono le canzoncine insomma il copione poi comprende appunto le parti recitate le canzoncine le danze insomma l'ho poi trasformato noi non in uno spettacolo ci si può realizzare uno spettacolo ma si può anche semplicemente fare realizzare un laboratorio proponendo ai bambini la storia e poi gli anche varie attività canti danze e perché no anche attività manipolative eccetera quindi adesso vi vado a condividere questo albo come vi dicevo è scritto in lingua inglese io l'ho tradotto ho anche preso le immagini dell'albo quindi c'è il file pdf che adesso vado a condividervi poi ve lo vi consentirò insomma di scaricarlo adesso troverò il modo per mettervi poi un link così da farvelo scaricare sì credo che sul blog lo riesco a fare quindi potete poi anche scaricare il file pdf dove c'è questa storia con le immagini allora proviamo vediamo se va la condivisione delle slide mi sembra di sì aspettate che io nel frattempo guardo cosa sta succedendo sulla pagina ok ed ecco il titolo the little christmas elf il piccolo elfo di natale così si intitola andiamo a vedere la prima scena toc 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 era la vigilia di natale nel laboratorio di babbo natale questo toc 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 sono tutti i suoni dei degli elfi che sono all'interno del laboratorio appunto e stanno costruendo i giocattoli che poi babbo natale andrà a consegnare i bambini nina e la protagonista era seduta al tavolo di legno con gli altri elfi indaffarati poteva malapena vedere oltre il bordo del tavolo ma non le importava quindi nina è la protagonista e l'elfo più piccolina nina era la più piccola elfa del laboratorio ma quest'anno era abbastanza grande per partecipare alla realizzazione dei giocattoli finalmente era arrivata la sua occasione nina dovrai lavorare più velocemente se vuoi quello se vuoi che quello l'orsacchiotto sia pronto per natale disse l'elfo più grande va bene elvis ci provo disse nina mentre riempiva il piccolo orso di cotone canticchiava e muoveva la testa mentre lavorava assicurandosi che il cotone arrivasse fino alle dita dei piedi dell'orsacchiotto nina aveva lavorato sull'orsetto tutto il giorno ma cominciava a preoccuparsi di non riuscire a finirlo in tempo finito cantò un elfo alla fine del tavolo anch'io aggiunse un altro elfo tada esclamò un terzo elfo tutti applaudirono per loro ehi fuori buio disse elvis accendiamo le luci di natale quando il laboratorio si illuminò gli elfi iniziarono a cantare uno dopo l'altro gli altri elfi finirono i loro giocattoli trenini bambole costruzioni erano appoggiati sul tavolo ad asciugare ecco l'immagine dove abbiamo questo tavolo con tutti i giochi pronti realizzati da tutti gli elfi tranne che da nina vuoi una mano nina chiese un elfo gentile no grazie holly disse nina cercando di sorridere voglio davvero farlo da sola gli elfi pulirono i loro posti gli elfi uscirono fuori a giocare nella neve e improvvisamente si sentì un suono di zoccoli babbo natale è qui con le renne gridò qualcuno tutti gli elfi corsero fuori dal laboratorio e si radunarono intorno a babbo natale e alla sua slitta le lacrime riempirono gli occhi di nina aveva ancora così tanto lavoro da fare nel frattempo gli elfi cominciarono a caricare i giocattoli in enormi sacchi rossi e a lanciarli sulla slitta quindi ecco che vediamo nina in difficoltà questo piccolo elfo non è riuscito a finire il suo giocattolo nonostante questa insomma era la sua occasione ed è triste perché nina è l'elfo che sta più indietro di tutti gli altri elfi babbo natale entrò e si fermò accanto a nina stai facendo un ottimo lavoro disse ma non credo che sarà pronto in tempo nina guardò il suo orsetto no babbo natale disse con una vocina beh non mollare nina disse babbo natale possiamo sempre tenere il tuo orsetto per l'anno prossimo e detto questo babbo natale lasciò il laboratorio sola nel laboratorio nina guardò la slitta di babbo natale volare nel cielo notturno ma ricordò ciò che babbo natale le aveva detto sul non arrendersi e così tornò al tavolo da lavoro nina finì di imbottire l'orsetto cucì due bottoni per gli occhi un naso e poi un sorriso infine cucì un cuore nina sollevò l'orsetto in alto era finito ed era davvero un bell'orsetto avrebbe reso un bambino molto felice ma solo l'anno prossimo sospirò nina mentre posava l'orsetto sul tavolo con uno sbadiglio si diresse verso la porta del laboratorio chi si trovava proprio fuori dalla porta ma babbo natale era già tornato dopo aver consegnato i regali oh 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 rise lui sei ancora sveglia sì babbo natale disse nina volevo finire il mio orsetto per fortuna non ti sei arresa disse babbo natale appena ho finito le consegne è nato un bambino non mi erano rimasti giocattoli per il piccolo gli occhi di nina si spalancarono il mio orsetto è per il nuovo bambino proprio così se non fosse stato per te nina quel povero piccolo sarebbe l'unico bambino senza un regalo questo natale nina corse a prendere l'orsetto lo forse a babbo natale ma lui non lo prese penso che dovresti venire con me per una consegna così speciale le disse sollevandola sulla slitta oh 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 sarà un regalo per il bimbo più piccolo dall'elfo più piccolo insieme si inoltrarono nella notte e c'è la scena finale con il bambino che ha l'orsetto di nina ecco questa è la storia che come vi dicevo ha ispirato poi il laboratorio di babbo natale questo copione che ho scritto dove c'è la protagonista è ambientato appunto nel laboratorio di babbo natale e succede questo che ho immaginato questo laboratorio suddiviso in vari diciamo aree dove c'è l'area in cui ci sono gli elfi musicisti che quindi si adoperano a costruire oggetti musicali strumenti musicali e quindi canteranno una canzone prima c'è un piccolo dialogo in rima poi si esibiscono sulla canzoncina c'è un'altra sezione dove ci sono in questo laboratorio gli elfi falegnami che invece lavorano a costruire giochi a costruire altri oggetti usando appunto la legna e poi ci sono gli elfi postini anche qui sulla scena arrivano gli elfi che si scambiano alcune battute in rima e poi canteranno la canzoncina smistiamola posta ho immaginato elfi sarti, elfi giardinieri e quindi ecco da questa storia nasce questo copione siamo nel laboratorio di babbo natale ci sono vari gruppi di elfi quindi ecco possiamo andare a suddividere i bambini in vari gruppetti ogni gruppetto interpreta un gruppo di elfi e ci sono poche battute in rima quindi sono delle piccole filastrocche da recitare dei dialoghi in rima appunto e poi cantano e si esibiscono su una canzoncina nel frattempo si svolge poi la storia di Nina quindi c'è la protagonista Nina questo elfo piccolo che è rimasto indietro ma grazie diciamo all'incoraggiamento di babbo natale e al fatto che non perde la fiducia in se stessa la protagonista riuscirà a completare il suo giocattolo e addirittura a consegnarlo personalmente andando sulla slitta insieme a babbo natale quindi ci sono poi questi momenti di insieme che vengono incorniciati dalla canzoncina finale quindi ecco questa storia può diventare anche volendo un piccolo spettacolo può diventare anche un momento di festa da condividere con i nostri bambini anche appunto sollecitando delle riflessioni sull'importanza di non arrendersi eccetera ma io adesso voglio andarvi a condividere altre attività da poter sviluppare su questa storia con i nostri bambini al di là insomma del cupione della recita eccetera innanzitutto possiamo lavorare sulla costruzione di un percorso motorio e quindi organizzare lo spazio di modo da immaginarci no? in questo ambiente in questo villaggio di babbo natale dove c'è il laboratorio dove quindi ci sono tante attività che svolgono i nostri elfi ma c'è anche uno spazio da attraversare allora cosa succede? possiamo immaginarci su questa neve che fa un po' da sfondo anche come ambientazione a questa storia e allora posizioniamo delle orme sul pavimento magari delle orme decorate come se fossero quelle grosse proprio di babbo natale e le possiamo posizionare in successione creare un percorso dove i bambini devono camminare ma possono saltare possono appoggiare i piedi sulle orme di babbo natale seguendo le direzioni avanti spostate di lato a destra di lato a sinistra dietro creare un percorso dove dobbiamo chiedere ai bambini quindi di saltare sulle orme o di camminare eccetera eccetera insomma potremmo organizzare un percorso in questo senso sul pavimento stampiamo sul cartoncino ritagliamo un cartoncino nero con la forma appunto del piede di babbo natale i bambini devono appunto muoversi seguendo queste orme ma le orme possono essere anche quelle delle renne o di altri animali che possiamo trovare al polo nord e possiamo lavorare sulla differenza di movimento magari babbo natale farà una marcia quando incontriamo le orme di babbo natale marciamo quando incontriamo le orme delle renne andiamo più veloce correndo e così via possiamo quindi anche andare a modulare il tipo di movimento quindi non solo il salto sull'orma ma anche differenziando il movimento a seconda dell'orma che incontriamo oppure ancora possiamo lavorare sulla dimensione orma grande, orma piccola cammina solo sulle orme di babbo natale quindi solo su quelle più grandi non su quelle più piccole su quelle più grandi saltiamo sulle più piccole invece andiamo in punta di piedi e così via ci sono le orme di babbo natale ci sono le orme degli elfi che sono più piccine potrebbe essere anche questo uno spunto di attività ancora pensando a un percorso motorio passiamo a zig zag tra i pini mettere dei semplici coni degli piccoli ostacoli che rappresentano i pini gli abeti gli alberi che incontriamo al polo nord e una corsa a zig zag saltiamo sui cumuli di neve o sulle rocce creare dei piccoli ostacoli sui quali bisogna saltare e possiamo usare anche della carta del cartoncino degli scatoloni per raffigurare rappresentare cumuli di neve le rocce catturiamo una stella al volo che ci porterà fortuna nella consegna dell'orsetto possiamo immaginarci come i protagonisti quindi il babbo natale il piccolo elfo che devono catturare una stella bisogna catturare la stella perché ci porterà fortuna e possiamo in questo caso prevedere ad esempio un gruppetto di bambini che dovrà lanciare delle palline di carta saranno tutte gialle tranne qualcuna che è di un giallo più luminoso di un giallo oro e i bambini che attraversano il percorso dovranno acciuffare solo le stelle rappresentate dalla carta color oro oppure cerchiamo la stella cadente più luminosa nel campo delle stelle cadenti nascosta tra le buche organizzare lo spazio preparando anche qui delle buche che possono essere rappresentate da cerchi oppure le scatole messe al contrario di modo che nascondiamo le stelle luminose queste stelle ritagliate sul cartoncino piuttosto che come vi dicevo la carta pallottolata ma di un colore oro e le stelle più luminose dobbiamo cercare velocemente cronometriamo il tempo al via dobbiamo raccogliere quante più stelle divise in due squadre due percorsi paralleli chi raccoglie più stelle potrebbe anche essere questo un ulteriore momento di gioco corporeo motorio anche di squadra così come invece tutto questo percorso con questi vari momenti può diventare un unico percorso da attraversare dipende dallo spazio che abbiamo a disposizione dipende dal numero dei bambini che abbiamo a disposizione perché poi potrebbe richiedere troppo tempo chi non attraversa il percorso è fermo si stanca quindi andiamo un po' a gestire questa cosa tanti momenti da fare uno dopo l'altro tre quattro momenti uno dopo l'altro così da costruire un percorso motorio oppure un momento per volta se abbiamo necessità di controllare anche meglio il gruppo mentre si muove mentre gioca ancora abbracciamo il grande albero per ricevere forza e protezione per il resto del viaggio qui possiamo introdurre un momento mindfulness un momento yoga facciamo la posizione yoga e inspiriamo manteniamo l'equilibrio sul piede sapete che tra le mie risorse trovate anche varie attività yoga potete anche scaricare le varie attività che metto a disposizione sul blog quindi semplicemente la posizione dell'albero un bel respiro o abbracciamoci a vicenda e quindi un momento più tranquillo per prendere il respiro sentire la forza no? in questo racconto si parla molto anche di questo cioè della capacità di non mollare di andare avanti la nostra protagonista fa questo e allora forti come un albero in equilibrio su una gamba vai che ci riusciamo proviamo a stare in equilibrio su una gamba e a tenere bene il respiro la postura diritta facciamo la posizione dell'albero il nostro piede come le radici di un albero ben radicati al suolo su un piede e sull'altro ecco ad esempio questo momento rappresenta un momento più diciamo tranquillo un momento più caratterizzato anche da maggiore calma che può essere integrato all'interno di un percorso quindi orme seguiamo le orme secondo momento saltiamo sui mucchietti di neve sulle rocce terzo momento l'albero prendo il respiro faccio la posizione ecco tre momenti due più vivaci e uno più tranquillo io vi metto vi ho messo tante attività che poi potete autonomamente decidere se farle tutte prenderne solo alcune un'altra idea può essere quella di prevedere una sorta di tunnel se abbiamo la possibilità di utilizzare i tunnel quelli che si usano proprio nell'attività psicomotoria tanto meglio oppure lo facciamo con materiali da riciclo con la carta con la stoffa tra due sedie poggiamo della carta i bambini devono passare ed entrare nel rifugio del gufo dove devono stare in silenzio per ascoltare i consigli del gufo saggio prima di proseguire perché qui c'è bisogno di consigli così come è successo con Babbo Natale che ha dato un buon consiglio a Nina attraversiamo la tana dell'orso senza svegliarlo anche qui può diventare un momento di attraversamento di un tunnel di una situazione chiusa all'interno della quale i bambini si muovono gattonando e immaginandosi appunto di attraversare la tana dell'orso senza svegliarlo non facciamo rumore ancora andiamo sul tappeto e spingersi in avanti con i piedi come se fossero sulla slitta alla fine bambini cosa succede Nina va sulla slitta insieme a Babbo Natale e allora vi ho portato questo tappeto dei piccoli tappeti da appoggiare sul pavimento i bambini devono sedersi sul tappeto e darsi le spinte possono anche fare delle piccole gare chi arriva prima chi va più veloce chi scivola meglio quindi darsi la spinta con i piedi o con le mani e spingersi immaginandosi su questa slitta passaggio sulle lastre di ghiaccio pezzi di cartone su cui camminare simulando lastre di ghiaccio sparse per terra quindi ritagliare il cartone con la sagoma del piede magari unirla con un pezzetto di elastico e i bambini devono immaginarsi di camminare sulle lastre di ghiaccio strisciando quindi i piedi ecco queste possono essere tante piccole attività da mettere una dopo l'altra per realizzare un percorso motorio come vi dicevo oppure semplicemente spezzettarle farne due tre per volta un gioco di squadra dividiamo i bambini in due squadre devono superare un percorso a ostacoli e assemblare un pacco regalo da posizionare sulla slitta cosa succede? la nostra Nina noi come Nina come gli elfi ci medesimiamo negli elfi e cosa facciamo? dobbiamo attraversare il percorso che vi ho preparato quindi se vogliamo farlo come gioco di squadra dovranno essere due percorsi paralleli come vedete qui nell'immagine partono quindi un bambino per squadra al via cosa succede? attraversano un percorso a ostacoli che può consistere nel superare a zigzag dei birili saltare un ostacolo scivolare lungo un tappetino e così via saltare nei cerchi passare sotto un tunnel un po' tutte le azioni che abbiamo visto prima ma qui la finalità è quella di riuscire ad assemblare prima dell'altro compagno della squadra avversaria un pacco regalo quindi cosa succede? che durante il percorso andremo a posizionare dei pezzetti che compongono un pacco regalo la scatola il coperchio il popazzo un fiocchetto tre quattro elementi che di corsa mentre si attraversa il percorso bisogna prendere mettere uno dentro l'altro assemblare e arrivare alla fine del percorso con il pacchetto pronto quindi come se fossimo appunto arrivati come gli elfi che hanno preparato il pacchetto lo hanno portato sulla slitta di Babbo Natale ecco questo è un altro gioco di squadra in questo caso ispirato a questa storia ma vi ho raccolto ancora altre attività perché come vi dicevo questa storia che a me personalmente ha ispirato le canzoni le danze le coreografie ma ovviamente ci si può lavorare e me lo insegnate meglio di me con le attività manipolative costruisci l'orsacchiotto di Natale decora la slitta scrivi una lettera di Babbo Natale all'elfo cioè secondo te poi dipende un po' dall'età dei bambini perché qui si può stimolare anche un po' la riflessione in questo senso Babbo Natale che scrive all'elfo cosa gli potrebbe scrivere delle frasi di incoraggiamento perché Babbo Natale ha incoraggiato Nina a non arrendersi anche se era indietro Nina non si è resa ed è riuscita comunque a costruire il suo giocattolo e può essere anche spunto di attività di scrittura creativa anche qui dipende dall'età dei bambini però ad esempio chiediamo ai bambini di immaginare che l'elfo abbia un piccolo diario segreto in cui scrive ogni sera le sue emozioni sfide e pensieri mentre lavora il suo orsacchiotto quindi come si sente Nina secondo voi cosa potrebbe scrivere in questo diario la lettera di incoraggiamento scriviamo una lettera di incoraggiamento all'elfo come se fossero dei saggi compagni di lavoro che vedono la sua fatica e vogliono spronarlo a non arrendersi compagni di un bambino di un elfo in difficoltà il mondo segreto degli elfi che non mollano chiediamo ai bambini di immaginare che una notte l'elfo scopra un mondo segreto popolato da altri piccoli elfi che come lui stanno affrontando delle difficoltà per completare i loro giocattoli quindi ogni elfo racconta la propria storia di fatica e come riesce a superarla possono essere spunti non solo di scrittura creativa ma anche di riflessione di un circle time chiedere ai bambini di raccontare di immaginarsi come se fossero un elfo che racconta una sua difficoltà potrebbero quindi medesimarsi proprio nell'elfo che deve costruire un giocattolo o raccontare un'esperienza personale insomma potrebbe poi essere interessante ascoltare proprio cosa hanno da dire i bambini immaginandosi in questa situazione e allora potremmo anche bambini che ne dite se scriviamo delle frasi di incoraggiamento che tipo di frasi possiamo scrivere per incoraggiare il nostro elfo a non mollare me ne ho raccolte alcune magari le potete leggere insieme ai bambini prenderle come spunto ogni punto che cuce è un passo verso un sorriso non mollare anche i piccoli passi ti avvicinano al traguardo io so che otti migliori sono quelli fatti con pazienza e amore credi in te stesso ogni filo che aggiungi è un abbraccio in più anche se sembra difficile alla fine sarà tutto più speciale stai creando qualcosa di unico e prezioso proprio come te ecco no sono frasi che poi potremo custodire in una scatolina la scatola dell'elfo da decorare sono frasi che ci potrebbero aiutare anche durante tutti i giorni quando qualche bambino è in difficoltà quando abbiamo bisogno di comunicare ai bambini anche l'importanza di avere delle frasi di incoraggiamento per un compagno che non ce la sta facendo che si sente più indietro che si sente in difficoltà allora che ne dite peschiamo una frase di incoraggiamento ricordatevi c'è sempre la scatolina del piccolo elfo qui con noi che quando abbiamo bisogno possiamo andare a pescare una frasetta che ci può aiutare un po' alla volta anche i sogni più grandi prendono forma babbo natale ha scelto te per questo compito perché sa che puoi farcela il tuo impegno fa la differenza anche se ora non lo vedi hai una forza speciale dentro di te e questo orsacchiotto lo dimostrerà la pazienza e la cura rendono il tuo lavoro prezioso no? frasi che possono aiutare e un momento di relax bambini abbiamo letto questa storia abbiamo c'è stato da riflettere cioè questa storia ci ha dato degli spunti da riflettere sul fatto che quando ci si sente in difficoltà a volte a volte spesso insomma è importante che qualcuno ti dia il giusto incoraggiamento usando delle parole delle frasi che ci possono aiutare a non mollare e a continuare e allora facciamo adesso un gioco anche di respirazione dopo aver magari fatto tutti i giochi anche motori ci siamo belli riscaldati facciamo un gioco di respirazione la frase che ci accompagna è se lavori con il cuore il tuo orsacchiotto porterà amore a chiunque lo abbraccerà quindi mettiamo le mani sul cuore facciamo dei respiri profondi immaginando che ogni respiro stiano che ogni respiro stia inviando amore e gentilezza dentro di sé e verso il loro orsacchiotto immaginario quindi inspiro ed espiro inspiro porto l'amore porto la pazienza anche verso di me ne ho bisogno di pazienza per continuare i miei compiti anche quando sono difficili espiro è come se mandassi amore anche in questo orsacchiotto che sto creando che sto realizzando immedesimandoci sempre nella storia quindi inspiro ed espiro anche tenendo un piccolo orsacchiotto possiamo continuare questi giochi queste attività anche spalmandoli su più giorni chiediamo ai bambini magari di portare un loro orsacchiotto di disegnarlo e quindi ritagliarlo e tenerlo durante questo gioco con l'espiro ogni respiro stiamo portando amore e gentilezza verso noi stessi e espiro portiamo l'amore al nostro orsacchiotto un respiro di incoraggiamento e di consapevolezza oppure il respiro dell'abete hai una forza speciale dentro di te questo orsacchiotto lo dimostrerà immaginiamo di essere un abete con radici profonde inspiro prendo energia dalla terra questo gioco lo possiamo fare stando in piedi con i piedi ben piantati a terra inspiro prendo energia dalla terra espiro e lascio andare qualsiasi dubbio paura insicurezza possiamo anche accompagnare con il movimento delle mani che spingono via i pensieri negativi espiro ed espiro è un altro gioco interessante spero che questi spunti vi siano stati utili ora mi organizzo per consentirvi di scaricare questo file pdf che come avete visto contiene la storia tradotta di questo albo che originariamente è scritto in lingua inglese che si intitola The Little Christmas Elf il piccolo elfo di Natale è un testo che ovviamente potete acquistare potete cercare online è sicuramente disponibile magari essendo in lingua straniera sarà un po' più difficile ci vorrà un po' più di tempo per riceverlo a casa in ogni caso vi lascerò il pdf gratuitamente di modo che riuscite comunque a leggerlo ad avere le immagini perché le immagini le ho prese direttamente appunto dal dal testo tradotto in italiano e poi se vi va di dare uno sguardo appunto a come questa storia è diventato anche un copione che però come vi dicevo non necessariamente dobbiamo utilizzare per la recita questo è il laboratorio di Babbo Natale appunto racconta la storia di Nini e si arricchisce di canzoncine e di di danze natalizie tra l'altro diventa anche abbastanza semplice poi da gestire con i bambini perché ecco i protagonisti i personaggi sono gli elfi quindi tutti interpretano gli elfi però c'è il gruppetto che interpreta gli elfi musicisti quello che interpreta gli elfi postini quindi ogni gruppetto ha la sua caratterizzazione ha la sua canzoncina al suo momento recitato il rima la sua piccola insomma esibizione quindi diventa anche abbastanza equilibrato per lavorare per fare un lavoro insomma che sia omogeneo per tutti i bambini spero che queste attività vi siano piaciute vedo qualcuno che è arrivato ciao 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 grazie grazie a tutti voi che avete seguito lascerò comunque la diretta sulla pagina per chi non è riuscito a collegarsi o se vi va di vederla se avete perso qualche pezzetto e vi aggiorno spero a breve per darvi il link dove potete scaricare questo file pdf ok vi ringrazio alla prossima ciao